Ragazzi, mi sono dimenticata di dirvi la cosa più importante della giornata. Allora, mio marito adesso non c'è perché poverino è al lavoro e ci vedremo più tardi. Però appena sveglia ho trovato su WhatsApp un messaggio dolcissimo con cose importanti e poi una volta arrivata in cucina ho trovato la colazione preparata, la tavola addobbata di cibo, di cose dolce e salate, con al mio posto, solito, una lettera indirizzata a me, da parte di mio marito. Volete sapere se ho pianto? No, questa volta non ho pianto. No, giuro, stavolta non piango. Cioè, non ho pianto, di solito sì, piango, di solito sì, piango, ma stavolta non ho pianto. Ho detto, dai, non puoi piangere sempre, perché comunque sei contenta, sei felice, ma si può piangere anche di felicità, di gioia, però stavolta ho solo bagnato gli occhi, non ho pianto. Ciao, ciao!